Sì, va bene, spiavo anch'io, ecco. Perché mi è entrata nella testa, capisci? Non riesco a farmelo uscire. Margherita, che forse mi hanno fatto una fattura. Tu dici da no? Certo che è bella, è fimmela, capito? Certo che è bella. 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 Cavalieri. Donna Ines, dove va? Damigna, è diventata una vera rarità il piacere di salutarla. Ma che dice donna Ines, purtroppo i bambini, il lavoro. Ma certo, a proposito avrei deciso di rinnovare il mio guardarrobba. Penso che oramai mi potrei levare tutto questo nero di donna. Pagni, hai ragione, è quello che dico io, il lutto, il lutto si porta nel cuore, non è che si porta nel vestito. Pagni. Mi puoi dare un consiglio, mi puoi aiutare, le porto il campionario e ce lo guardiamo insieme, eh? Sì, sì, qualche pomeriggio. Ci conto. Pagni. 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 Pagni.